Lo sai vero che lavori per i soldi del Monopoli? Stai trascurando le cose più belle della vita per dei cazzo di soldi del Monopoli? Lavori a ore, viene retribuito con soldi del Monopoli. Hai un'attività che ti prosciuga per 10-12 ore al giorno, viene retribuito con soldi del Monopoli. Vendi direttamente dei servizi, viene retribuito con soldi del Monopoli. I tuoi soldi sono tutto tranne che di qualità. A differenza del reddito attivo che dipende dal tempo e dallo sforzo che investi, le entrate passive ti permettono di generare denaro di qualità, in modo automatico e continuo senza dover necessariamente lavorare. Dunque, solo ed esclusivamente i soldi derivanti dalle entrate passive sono di qualità, perché liberano il tuo tempo e la tua energia per concentrarti su ciò che veramente conta nella vita. Ti permettono anche di lasciare il tuo lavoro, o di lavorare meno ore se proprio sei legato ai soldi del Monopoli, senza però dipendere dalle incertezze del mercato, senza dover rinunciare a un flusso costante di entrate e quindi senza dover declinare il tuo stile di vita. I soldi di qualità sono l'essenza per chi desidera stabilità finanziaria e libertà finanziaria. Investire tempo ed energia per costruire entrate passive come nel nostro caso è una delle scelte più gratificanti e proficue che tu possa fare per il tuo futuro finanziario. E ricorda che i soldi del Monopoli scorrono verso la massa e quelli di qualità verso quelle poche mani che controllano il gioco.